A partire dallo scorso mese di luglio il comune di Caltanissetta con deliberazione di giunta numero 92 del 3 agosto 2023 ha adeguato i compensi degli amministratori locali. Tali modifiche riflettono l'aggiornamento dei parametri stabiliti dalla legge numero 234 del 30 dicembre 2021 e dalla legge regionale numero 13 del 25 maggio 2022. Per quanto riguarda il sindaco è prevista un'indennità di funzione mensile lorda di 8.231,07 euro per l'anno 2023, 9.851,55 euro per l'anno 2024 e gli anni successivi. Il vice sindaco riceverà un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco. Le cifre sono 6.173,30 euro per l'anno 2023, 7.388,66 euro per l'anno 2024 e gli anni successivi. Gli assessori comunali e il presidente del consiglio avranno un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella stabilità per il sindaco. Le cifre corrispondenti sono 4.938,64 euro per l'anno 2023, 5.910,93 euro per l'anno 2024 e gli anni successivi. In una nota da Palazzo del Carmine, il primo cittadino fa sapere che in un periodo storico segnato da grandi difficoltà per le famiglie, proprio mentre da Roma arriva una stretta sul reddito di cittadinanza, è stato deciso di creare un fondo da utilizzare per progetti di pubblica utilità da destinare alla città. Pertanto io, gli assessori e il presidente del consiglio comunale abbiamo optato per le restituzioni su tale fondo, così come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni. Abbiamo provato a contattare il sindaco per approfondire nei dettagli i termini di tale restituzione, ma non era disponibile a rilasciare un'intervista.